Lei ha presentato un'interrogazione sulla proposta di autonomia differenziata. Secondo lei è una proposta accettabile o bisogna migliorarla oppure bisogna osteggiarla ad ogni costo? E' lo scopo allora della mia interrogazione a quello di porre il problema di cui nessuno si interessa, almeno ad oggi, soprattutto le regioni del sud, non hanno preso consapevolezza di ciò che l'onorevole Calderò li sta portando avanti, privilegiando le regioni del nord e non affrontando il problema nella sua natura, vera natura, cioè considerandola per equazione, secondo voi la Costituzione che prevede l'assegnazione dei fondi alle varie regioni che hanno un PIL al di sotto della media nazionale e invece loro non considerano. Anzi, iniziano dal 2001 in poi, quando si è avuto l'eliminazione del titolo quinto della Costituzione, si sono assegnati fondi soprattutto nell'ambito della sanità e del welfare secondo la spesa storica e soprattutto vorrei mettere in evidenza per quanto riguarda la spesa sanitaria. La spesa storica e del welfare, la spesa storica prevedeva dei requisiti dei parametri che non sono stati mai revisionati, considerando che un anziano, per esempio, che abita un cittadino anziano nella Liguria, ha diritto ad avere un budget superiore a un giovane della regione Campania, perché ritengono, partono da questo concetto che un giovane ha meno necessità di essere assistito dal punto di vista della salute e invece ritengo che la salute non è solo cura o diagnosi, bensì è qualità della vita e soprattutto nelle regioni del sud dove c'è un PIL basso, quindi c'è un reddito pro capite che non permetta la vita dignitosa delle persone, i ragazzi giovani si ammalano per vari motivi, soprattutto per una diversa realtà sociale, per cui non avendo un reddito adeguato vengono assoldati, non direi proprio assoldati, ma cadono nelle frange della malavità e tutto ciò porta ad una vita che non è più dignitosa, che crea delle persone sottomesse, sudditi, non più cittadini. Inoltre, soprattutto la riduzione della spesa per quanto riguarda la cultura, quindi una riduzione per il welfare, per i trasporti, per la scuola, ha portato a una mortalità scolastica elevata, a una riduzione dei mezzi di trasporto, per cui la vita diventa quasi impossibile da vivere in modo dignitoso. Lei prima diceva che il sud non si sta attivando come dovrebbe, però dalla campania il governatore De Luca ha lanciato un grido d'allarme e sta facendo una battaglia vera, forte contro questo provvedimento. È ammirevole che il nostro presidente De Luca della campania si schiera con i deboli, però è un problema puramente politico, devono attivarsi nell'ambito del lanci, cioè dell'associazione Stato-Regione. Ma sono passati 21 anni da quando, dal 2001, non si è fatto quasi niente, perché i vari incontri si sono avuti a scadenza normale, però effettivamente non hanno prodotto mai niente, cioè è rimasto tutto immobile. Le assegnazioni dei fondi per il sud, è rimasta la spesa storica. Faccio un esempio che fa caponare la pelle a pensare che un servizio che non esiste in una regione, quindi non veniva affidato a nessuno, cioè assegnato a nessun fondo, per esempio gli asili, in un paese dove non c'era un asilo, quindi non c'era una spesa per gli asili, non avendo una spesa storica non hanno avuto nessuna assegnazione e questo è inaccettabile. Grazie.